Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per mercoledì 3 luglio. Bene, una perturbazione atlantica raggiunge il nord Italia e quindi l'anticiclone nord africano è costretto a ritirarsi dalla regione settentrionale ma insisterà ancora su quelle centro-merigionali. Ecco allora il tempo previsto, la perturbazione porterà, come vedete, delle nuove su tutto il nord Italia a rovesce temporali, già dal mattino sulle Alpi centro-occidentali, sul Piemonte, sulla Lombardia e sull'Emilia nella seconda parte del giorno sull'Emilia. Le temperature ovviamente scenderanno un po' sul nord Italia, su valore al di sotto di 30 gradi su tutto il nord Italia, mentre resteranno ancora valori tra 34 e 37 gradi sull'interno della Toscana, sull'Umbria, sull'interno del Nazio, sulla Puglia, la Lucania, la Calabria, interno delle isole maggiore. Termino qui un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.